Non archiviate il caso, così la sorella del ladro ucciso da Freddy Pacini, che ha presentato un atto al tribunale affinché l'indagine sulla morte del 29enne Moldavo non sia archiviata come un caso di legittima difesa, così come invece aveva chiesto la procura di Arezzo. Non si tratta però di un'opposizione, bensì di una memoria difensiva che offre una serie di elementi critici sulla vicenda, sui quali si chiede una valutazione al giudice. Era il 28 novembre 2018 quando Freddy Pacini, che esasperato da numerosi furti subiti dormiva nella sua azienda, venne svegliato di soprassalto dai rumori dei vetri di una finestra che venivano infranti con un piccone. Il gommista così esplose dal suo palco, dove si trovava cinque colpi contro il ladro che aveva fatto irruzione nel suo capannone in via della Costituzione, tutti dall'alto verso il basso. Uno di questi, quello alla coscia, risultò fatale causando un'emoragia interna come confermato dall'autopsia. Freddy Pacini era indagato per eccesso di legittima difesa, il PM Andrea Claudiani aveva poi firmato la richiesta di archiviazione per legittima difesa putativa, ossia, secondo il magistrato, il gommista riteneva di essere in una situazione di effettivo pericolo, tale da affrontare anche con gli spari pur di tutelare la sua incolumità. Adesso l'ultima parola spetterà il giudice che dovrà valutare la memoria difensiva presentata dalla parte offesa, la sorella del 29enne.